Musica Benvenuti a questa edizione serale del telegiornale di TVRS. Oggi è stato un altro giorno di dolore per Ostra. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino con la comunità che ha dato l'ultimo saluto alle quattro vittime della tragica alluvione di giovedì scorso. Giuseppe Tisba, 65 anni, il figlio Andrea, 25, Diego Chiappetti, 52 anni e Fernando Olivi, di 82. E durante l'omelia è arrivato l'appello accorato del Vescovo di Senigallia, Franco Manenti. Una precisa richiesta rivolta agli amministratori di ogni livello perché finalmente intraprendano un'incisiva e tempestiva azione di messa in sicurezza del territorio perché non accada ancora che l'acqua, bene prezioso e fonte di vita, porti morte e devastazione nelle nostre case. Funerali anche a tre castelli, frazione Passoripe, per la signora Maria Luisa Sereni, 80 anni, anche lei morta durante l'alluvione. E stasera ci sarà una fiaccolata a San Lorenzo in campo per dimostrare la vicinanza e la solidarietà della cittadina al piccolo Mattia, 8 anni, disperso da quasi 6 giorni dopo essere stato travolto dalla piena del Nebola e alla sua famiglia. Ritrovo alle 20.30 nelle due piazzette davanti il municipio. Intanto le ricerche dei vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile, carabinieri e guardia di finanza proseguono sul Nebola e nelle aree circostanti il greto del fiume. I soccorritori, anche con cani molecolari e sub, stanno setacciando il tratto nella zona di Corinaldo dove ieri sera era stata trovata l'auto di Brunella Q, 56 anni, di Barbara, anche lei ancora dispersa. I carabinieri, e questo è un altro fronte, acquisiscono i tabulati telefonici relativamente all'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Ancona. I dettagli nel nostro primo servizio. Nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Ancona per omicidio colposo e inondazione colposa in seguito all'alluvione che ha colpito la provincia, i carabinieri forestali, a quanto si apprende, hanno acquisito negli uffici competenti i dati meteo relativi alle precipitazioni previste per il giorno del disastro e stanno anche ricostruendo i tabulati telefonici di una serie di soggetti interessati dall'allerta che, lo ricordiamo, era a livello giallo. Una previsione fatta in scienza e coscienza sulla base di modelli matematici e studi scientifici che indicavano questo codice come il più idoneo, ha detto Paolo Sandroni, responsabile del Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile Regionale. Quanto successo è uno degli eventi più difficili da prevedere. Una cellula temporalesca autorigenerante che ha scaricato oltre 400 millilitri di acqua a terra, quantitativi inimmaginabili. Nell'arco di poche ore le precipitazioni piovose hanno riversato sul territorio il doppio dell'acqua rispetto al record registrato negli ultimi 100 anni. Si era prevista invece un'intensità moderata dai 30 ai 60 millimetri ed avrebbero dovuto interessare più il versante umbro che quello marchigiano. Le cose invece sono andate in maniera tragicamente diversa. E si profila un ritorno in DAD per gli alunni nelle scuole e nei territori colpiti dall'alluvione del 15 settembre. Scuole che restano chiuse sia a causa dei danni subiti, sia per la difficoltà nel ripristinare i trasporti e la viabilità per raggiungere diversi plessi, visto che molte strade sono chiuse ed altre non esistono più. Intanto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, commissario per l'emergenza, ha scritto al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per richiedere di estendere anche il territorio maceratese colpito dall'alluvione nella dichiarazione dello Stato di emergenza. Cambiamo argomento. Irrevocabili sono arrivate le dimissioni di Achille Buonfigli da presidente del Consorzio Universitario Piceno. La decisione a causa del mancato riconoscimento del ruolo del CUP su alcune recenti decisioni, come la prossima attivazione del nuovo corso di radiologia, ma anche in merito a precedenti decisioni. Sentiamo l'intervista di Cristiano Pietropaolo. Con le mie dimissioni ho voluto porre agli enti soci del Consorzio e alla collettività Picena un problema che mi sta molto a cuore, che è quello del ruolo del Consorzio Universitario. Cioè se il Consorzio Universitario debba continuare ad esistere e anzi ne debba essere rilanciata l'iniziativa e il ruolo oppure sia da considerare un ente inutile, superato, inopportuno, costoso magari e non più adeguato ai tempi, per presidiare una funzione che non solo io ma per la generalità della collettività viene ritenuta importante. Cioè il ruolo, la presenza dell'università sul territorio, la gestione dei rapporti con le università, lo svolgimento di tutte quelle attività collaterali che sono il nostro campo di azione e che consentono di gestire le politiche universitarie. Perché è questo il ruolo. Il Consorzio Universitario è un ente promotore, programmatore nell'ambito delle attività universitarie. Se questo ruolo deve essere mantenuto oppure no, oppure è necessario, oppure è utile, è opportuno che questa funzione venga presidiata in altro modo. E le sue dimissioni sono irrevocabili? Sì, le mie dimissioni sono irrevocabili perché sicuramente dopo vent'anni di impegno all'interno del Consorzio credo che sia assolutamente opportuno che altri si occupino di questa attività e che io mi faccia da parte, lasciando poi ad altri valutare che come in questi vent'anni il Consorzio Universitario si è atteggiato se abbia assolto la sua funzione o se abbia esaurito la sua funzione. Perché anche questo potrebbe essere un argomento. Il Consorzio Universitario ha esaurito la sua funzione. Allora si discuta. Mi auguro che si sviluppi un dibattito pubblico su questo, che si abbia consapevolezza pubblica dell'importanza dell'università, che si discuta dell'impatto economico che ha l'università sul nostro territorio e che questa funzione, che è quella dell'attività di programmazione e di coordinamento, venga affidata ad altri enti o venga confermato il Consorzio, ma a questo punto con un progetto e un programma di rilancio. La cronaca c'è stato un inquietante episodio. Ieri in via Mameli a Porto Sant'Elpidio. Prima i vetri dell'auto rotti con una pietra, poi un ordigno fatto esplodere sotto casa. Una serata di terrore, forse una ritorsione. Il fatto è avvenuto attorno alle 21.30, pochi passi dal lungomare nord e dalla piazza della cittadina. Ad essere presa di mira, un'abitazione che si affaccia verso la ferrovia con una sorta di bomba carta esplosa vicino al contatore della luce. Caro Energia e caro Bollette, siamo andati ad Ancona per sentire la voce dei commercianti del centro. Rabbia e preoccupazione per i mesi a venire dove non si escludono chiusure temporanee. Il sondaggio di Martina Allinei. Caro Bollette, un tema caldo che sta letteralmente preoccupando famiglie e imprese. Dopo la pandemia e la crisi del personale, i costi dell'energia, gas e luce sono letteralmente alle stelle. L'autunno è alle porte e fa paura agli anconetani. Un tour tra le attività e i negozi del capoluogo d'Orico. Caro Energia, per una farmacia cosa significa? E' ciò che significa per tutte le imprese e per tutte le attività commerciali. Quindi andare incontro a degli aumenti sproporzionati per il momento. Con l'inverno probabilmente la situazione peggiorerà. Io penso che con la prossima bolletta molti di noi chiuderanno le serande senza pensarci due volte perché sono troppo 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 alti. Mi è arrivata l'ultima bolletta? L'ultima mi è arrivata, agosto sono stato chiuso 12 giorni, motori tutti spenti, mi sono arrivati a 2.000 euro. Quindi ho detto tutto. Rispetto all'anno scorso? Beh, saranno almeno triplicate. Per noi che abbiamo quattro locali qua in centro significa pagare quasi 1.000 euro al giorno di energia. Quindi situazione veramente drammatica, insostenibile perché effettivamente se non si pone un rimedio difficile rimanere in piedi con questa situazione. La bolletta dell'anno scorso rispetto a quella di quest'anno quanto è aumentata? È triplicata, quindi ovviamente non è che possiamo triplicare i prezzi. Abbiamo fatto le riunioni con altri colleghi, c'è già chi sta pensando adesso che comunque è finita la stagione di fare delle chiusure temporanee. I costi superano tutto quello che è l'incasso, non riesce a stare in piedi. È un disastro, letteralmente è un disastro, anche perché questo aumento sconsiderato porta per ricaduta a un aumento a catena di tutti quanti gli altri prodotti, quindi trasporti, i generi vari eccetera eccetera, che si unisce ai due anni già che abbiamo avuto di Covid e che già hanno spezzato le gambe parecchio. Si unisce poi a questa guerra che non ci voleva, quindi questa situazione. E quindi speriamo che chi arriverà domenica prossima ci metta veramente le mani in maniera seria. A tre anni dalla morte il comune di Recanati rende omaggio alla figura di Piero Cesanelli, fondatore del Festival della Canzone Popolare e d'autore musicultura. A lui sarà intitolato in largo antistante il Teatro Persiani. La cerimonia è programmata per il prossimo 28 settembre, nel giorno della ricorrenza dei tre anni dalla scomparsa di Cesanelli alle ore 18. Subito dopo, all'interno del teatro, verrà inaugurata la mostra fotografica Piero Cesanelli in Cento Scatti, ideata e prodotta dall'Associazione Usicultura. Parliamo adesso di un'iniziativa di solidarietà, si chiama Un Quaderno Sospeso, seguendo la moda del caffè per le famiglie, con bambini alle prese con difficoltà economiche. Seguiamo il servizio di Camilla Cataldo. Dopo il caffè sospeso, il farmaco e la spesa sospesa, arriva il Quaderno Sospeso. L'iniziativa nasce da un quartiere di Pesaro, Villa Ceccolini e nello specifico dall'Associazione Villa C'è. Un grande atto di altruismo, come funziona? Bisogna donare un quaderno, una penna o qualsiasi articolo di cancelleria, chi vuole può farlo e in questo modo aiuta le famiglie in difficoltà. Fondamentale e decisiva la collaborazione tra l'edicola Daniela Paolini e la scuola primaria Papa Giovanni XXIII per un gesto di generosità da premiare. La solidarietà è proiettata verso i più piccoli affinché non si sentano esclusi e donare rende più gioiosi e felici che ricevere. Il Quaderno Sospeso nasce dall'idea di aiutare i bambini della scuola Papa Giovanni XXIII che per un motivo o per un altro hanno qualche difficoltà per acquistare piccola cancelleria. Quindi praticamente chi viene in edicola qua, dico la cancelleria da Daniela a comprare qualcosa per lui può acquistare qualcosa per la scuola e semplicemente noi doniamo la scuola e la scuola ne fa buon uso durante l'anno scolastico. In quanti hanno aderito finora? L'anno scorso ma tanto tanto materiale, due scatoloni pieni. Quest'anno siamo partiti da una settimana e già insomma siamo a un buon risultato. Voi fate da apripista sperando che altri seguano il vostro esempio? Magari! Quanto è bello aiutare i bambini in difficoltà? Beh è una soddisfazione, dopo poi io sono diversi anni che ho questa attività, conosco tutti i genitori piccoli e adesso i bambini, quindi per me è il top. Io ho abbracciato questa iniziativa, non è stata un'iniziativa mia, personale, però appena Villa Cerme l'ha proposto non ho detto che subito sì. Il mio è stato un sì totale, la gente partecipa abbastanza, il paese è piccolino, non è che siano tantissime persone che vengono perché purtroppo c'è la Montella Battese che occupa tanta strada, però nel nostro piccolo secondo me facciamo tanto e siamo contenti. Nonostante le difficoltà del periodo, i rincari, i problemi economici, le bollette, le persone rispondono e sono generose? Forse anche di più, visto che c'è questa crisi c'è magari una parte di cuore che si apre per dire a chi possiamo aiutare finché ce la facciamo. Siamo allo sport che apriamo con il calcio. In Serie B per l'Ascola è una settimana comunque di lavoro, nonostante la sosta del campionato cadetto per gli impegni delle nazionali. La squadra bianconera dopo i due KO con Perugia e Parma sarà attesa a Benevento domenica 2 ottobre alle 16.15 dalla formazione campana che ieri ha presentato il suo nuovo allenatore Fabio Cannavaro che ha preso il posto di Fabio Caserta. Oggi intanto ha parlato il terzino Claude Ajapong che sinora da subentrato ha collezionato due presenze. Sentiamolo. È stata una trattativa lunga perché dovevo prima risolvere qualche piccolo dettaglio col Sassuolo. Era già da un paio di settimane che si parlava del mio arrivo qui ad Ascoli. L'ho voluto fortemente anche perché mi hanno parlato bene, poi conoscevo il mister che avevo già avuto a Sassuolo e quindi anche questa cosa qua mi ha spinto di più ad arrivare qua in bianconero. Dal mio arrivo penso che ho trovato un gruppo sano, un gruppo importante, giovani forti, mix tra giovani e giocatori di esperienza e per ora mi sto ambientando bene. Ho sordito all'età di 16 anni in Serie A e in Europa League mi sembra 16 e mezzo, 17 ora non mi ricordo bene. Sì, il mister c'è ragione, c'erano grandissime aspettative su di me, parlavano tutti, giornali, giovane, solite cose che dico. Poi negli ultimi anni sì, mi sono un po' diciamo che sono andato un po' a scendere. Perché secondo te? Ne parlavo l'altro giorno col mister, non so, forse un po' per errore mio, non so, c'è stato anche qualche infortunio, un po' di troppo che mi ha messo il bastone tra le ruote. Poi ci sono state anche scelte di allenatori che non vedevano me, vedevano altre scelte e quindi anche quello per un giovane è difficile. Poi ho fatto l'anno di Lecce che stavo facendo bene, mi sentivo bene, stavo iniziando a giocare con continuità e lì c'è stato un altro infortunio, mi sono rotto il tendine d'Achille. Pian piano sto cercando di prendere la forma fisica nel migliore dei modi e mi sono sempre rilato. Arrivo qua che i miei compagni avevano già giocato cinque partite, quindi giustamente mi mancano minuti nelle gambe. Spero di prenderle il più velocemente possibile cercando di giocare di più. Nelle ultime partite penso che sia mancata la cattiveria, perché se poi andiamo ad analizzare tutte le statistiche, sia col Perugia sia col Parma, penso che comunque abbiamo fatto sotto molti punti di vista una buona prestazione. Però analizzando col Mist, magari in molte occasioni potevamo fare scelte diverse, abbiamo sbagliato scelta e abbiamo sbagliato. In Serie D il Fano ha ufficializzato oggi l'ingaggio del giovane difensore classe 2003 Roberto Furlan, proveniente dal Teramo con il quale nella scorsa stagione ha totalizzato quattro presenze. Un rinforzo under importante comunque per mister Mosconi. E passiamo al basket, ricordando anzitutto che domani dalle 18.10 trasmetteremo in diretta da Villa Matarazzo di Fanano di Gradara la presentazione della Victoria Libertas Carpegna Prosciutto Pesaro. Nel frattempo proseguiamo nella conoscenza dei nuovi giocatori a disposizione di coach Repesa con questa intervista di Camilla Cataldo. Vasilis, quali sono i tuoi punti di forza in campo? Sa passare bene la palla, sa passare bene i blocchi e sa comunque tirare anche, è un buon tiratore. Ti senti meglio nel ruolo di numero tre o di numero quattro? Preferisce la posizione numero tre ma sa giocare anche da quattro. Chi era il tuo mito da ragazzo, il tuo idolo? Avete capito anche dal numero di maglia, sarà Larry Bird, la persona con cui sono cresciuto da quando ero piccolino e quindi voleva diventare un giocatore come lui. Tu vieni da un'annata a Bologna, che cosa non ha funzionato l'anno scorso con la Fortitudo? Molte cose non hanno funzionato ma l'importante è adesso che io sono qui, il passato è passato e quindi adesso mi voglio concentrare solamente sul presente. Tornando al calcio, la Fermana comunica la riapertura della campagna abbonamenti per un'altra settimana sull'onda dell'entusiasmo della vittoria ottenuta contro il Cesena. Da domani infatti si potranno sottoscrivere le nuove tessere con la possibilità anche di 100 abbonamenti speciali per la Tribuna Centrale a costi dimezzati 150 euro. Pochissimi invece i posti a disposizione della Tribuna Ovest. Vediamo ora le previsioni meteo per domani, giovedì 22 settembre. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì avremo un contesto anticiclonico sul nostro paese ma con un flusso di correnti umide orientali che determinano un po' di instabilità all'estremo sud soprattutto. Vediamo nel dettaglio la mappa della nuvolosità che vede di fatto l'Italia alle prese con il sole su gran parte del nostro paese mentre al sud insisteranno gli addensamenti specie tra Calabria e Sicilia. Più nel dettaglio dello zoom delle precipitazioni notiamo come i piovaschi sono attesi proprio tra la Sicilia più orientale e parte del Regino mentre il resto del nostro paese vedrà condizioni di tempo asciutto. Passiamo quindi al tempo atteso sul nostro paese. Avremo sole protagonista un po' ovunque al centro nord ma anche sul basso versante tirrenico. Qualche piovasco atteso tra notte e mattina tra Romagna e Marche ma comunque fenomeni molto localizzati mentre il tempo sarà un po' più instabile sulla Sicilia orientale ma anche sul Regino qui con il rischio pioggia un po' più concreto. Temperature molto frizzanti al mattino, valori termici che di giorno raggiungeranno i 20-22 gradi, punte superiori sulle isole maggiori. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. Ricordiamo stasera alle 22.10 la rubrica di atletica leggera starting block curata da Mario Giannini con un numero dedicato interamente alla mezza maratone del Piceno che si è disputata domenica con partenza e arrivo a Porto San Giorgio. Per noi era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti.